L'argomento, appuntamento estivo con l'informazione di Radio Capodistria. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori dell'argomento da Barbara Costamagna, una puntata speciale dedicata alle elezioni in Croazia e in particolar modo all'elezione del candidato al seggio specifico della Comunità Nazionale Italiana El Sabol del Parlamento Croato, che si terranno la prossima domenica 11 settembre. Ospiti dei nostri studi sono quindi due candidati al seggio, coloro che si contendono il seggio la prossima domenica, Furio Radin e Maurizio Zennaro, ai quali do il benvenuto. Benvenuti. Grazie, buongiorno. Buon pomeriggio. Prima di iniziare con il dibattito mi permetto di presentare brevemente i nostri due ospiti. Partiamo da quello che è il deputato uscente, Furio Radin, professore universitario e psicologo, all'ottava campagna elettorale dopo le sette legislature consecutive che l'hanno visto rappresentare gli interessi della minoranza italiana sin dal primo governo indipendente croato. In questi anni Radin ha anche ricoperto l'incarico di presidente della Commissione parlamentare per i diritti umani e delle minoranze nazionali, all'interno della minoranza rivesta il ruolo di presidente dell'Unione italiana e a livello locale consigliere nell'assemblea della regione istriana. Suo sostituto è l'attuale presidente dell'assemblea dell'Unione italiana, Roberto Palisca. Maurizio Zennaro è invece alla sua seconda campagna elettorale per il Parlamento croato. Zennaro è un professore di storia e direttore della scuola elementare di Cittanova e già impegnato in politica da un po' di tempo, come consigliere anni, anzi tre anni e mezzo, come consigliere indipendente nel Consiglio Municipale della città di Parenzo ed è membro del Consiglio della minoranza italiana autoctona della regione istriana. Sua sostituta per il Sabor è la fiumana Mirjana Fantauzzo. Io entrerei subito nel vivo del dibattito partendo a parlare di programmi. I vostri programmi affrontano quelli che sono i temi classici per quanto riguarda la minoranza, il bilinguismo, le comunità, i giovani, la scuola, la terza età. Vi chiederei quindi di esporre brevemente quelle che secondo voi sono le differenze che contraddistinguono i vostri due programmi e che dovrebbero spingere l'elettore a votare uno piuttosto che l'altro. Allora inizierei magari con lo sfidante, Maurizio Zennaro. Grazie Barbara. Il programma elettorale è praticamente articolato in cinque punti fondamentali, però devo dire anche che questi programmi elettorali, è il caso di presentarlo tutto, non lo so, perché per il semplice fatto che i programmi si presentano durante la campagna elettorale, passano i quattro anni, si ripropongono dopo i quattro anni e se non si ottiene niente nulla di fatto. Non succede. Ma voi l'avete riproposti dopo dieci mesi, quindi io direi di puntare sulle differenze. Ma le differenze, almeno mi pare che gli interessi per il nostro gruppo nazionale e il programma elettorale è praticamente quasi identico. Quello che per me è fondamentale, essenziale, sicuramente è la lotta e l'ottenimento del doppio voto. Poi per quanto riguarda il programma politico, siccome ripeto tutto il programma è articolato in cinque punti, c'è la collaborazione di tutti i nostri consiglieri regionali, municipali, della nostra etnia naturalmente, cercando anche di accantonare le varie appartenenze politiche, perché come dicevo durante i miei comizi elettorali, e continuo a dirlo, noi innanzitutto siamo italiani e i schieramenti politici sono di minore importanza. Per quanto riguarda il programma delle comunità, le comunità sicuramente devono essere più aperte, anche alla luce dei fatti che sono successi durante questa campagna elettorale, come lei sa, Barbara, sono successe delle cose gravissime, le comunità devono essere più coinvolgenti e naturalmente anche più competitive. Poi c'è il programma per quanto riguarda la terza età, la terza età i vecchi si ricordano sempre durante le campagne elettorali e poi che succede nell'arco dei quattro anni quasi nulla di fatto. I vecchi sono la testimonianza, la terza età sono la testimonianza della nostra presenza, sono coloro che hanno salvaguardato la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra tradizione, e pertanto meritano un interesse particolare. I giovani purtroppo sono sempre meno presenti all'interno delle nostre comunità, non siamo stati bravi a coinvolgerli, pertanto il programma che mira verso i giovani è un programma soprattutto per quanto riguarda l'impiego, il lavoro, per quanto riguarda l'istruzione e per quanto riguarda le possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro grazie alle imprese private. Poi, mi scusi, si può naturalmente parlare di programma elettorale per mezz'ora o un'ora, ma penso che non è il caso. No, infatti, Furio Radin, da parte sua, il suo programma, quali sono le novità e le differenze rispetto a Zennaro? Il denominatore comune del mio programma è il rispetto della nostra comunità, perché è un rispetto che non è stato attuato, non è stato mantenuto in questo mandato di 9-10 mesi, nella realtà di 6 mesi di, chiamiamolo lavoro, ma sono stati litigi in Parlamento, e perché non siamo stati rispettati? Perché non si è, né noi, né le altre minoranze, né i diversi di qualsiasi tipo, nel senso civile del termine, non siamo stati rispettati perché non hanno voluto prendere in considerazione i nostri programmi che abbiamo presentato al Premier. Certo, il colpevole non era il Premier, era anche il Premier, se vogliamo, erano i presidenti dei partiti politici, ed erano i partiti politici. Per questo io sono rimasto all'opposizione, ho fatto tutta, come dire, la carriera, la mia carriera parlamentare di questi dieci mesi è stata fatta nei banchi dell'opposizione. Il programma, poi, per quanto riguarda i grandi valori, è simile a quello di dieci mesi fa, perché sarebbe schizofrenico fare un altro programma quando non è successo quasi niente in un mandato per realizzare, però non abbiamo avuto la possibilità, né temporale, né politica. E dunque parte dal bilinguismo, per arrivare alle scuole d'eccellenza e ai giovani, all'identità e la cultura, alla tutela dell'identità e della cultura, una cosa che fanno egregiamente e con molto impegno da tanto tempo l'Unione Italiana e le comunità degli italiani, per arrivare alle istituzioni, soprattutto quelle danneggiate da questo governo molto ideologizzato, specialmente in alcuni di Castelli, come quello della cultura, è stata danneggiata l'informazione, e l'edit soprattutto, non soltanto l'edit, ma l'edit soprattutto, e dunque un interesse maggiore per l'informazione, per ristabilire questi diritti che sono andati persi, e alla fine, come dice anche il mio controcorso, candidato, la terza età, che non sono i vecchi, i vecchi sono Maurizio Di Gennaro, quelli della quarta età eventualmente, la terza età fatta da persone mature, in forma, e che sono pronte a portare avanti la nostra tradizione e la nostra appartenenza storica, sono loro la nostra memoria storica, dunque i vecchi sono eventualmente quelli della quarta età, e i maturi sono quelli ai quali ci dedicheremo di più. Mi scusi, ho subito detto i vecchi, no, scusi, la terza età, perciò ho fatto la correzione. Allora, chiarito, quindi non parliamo di vecchi, ma di terza età, continuiamo, è sottolineato, è sottolineato, continuiamo con un tema che ritorna comunque in tutti i comizi, diciamo, tra virgolette, che lei, Zennaro, ha tenuto nelle diverse comunità, ossia quello che la politica, secondo lei, dovrebbe uscire dalle comunità. Ecco, cosa significa? Significa che, ecco, abbiamo il caso, diciamo, di pochi giorni fa, dove una nostra conazionale, che è su una lista civica, ha fatto dei comizi elettorali all'interno delle comunità. Ciò significerebbe che qualsiasi nostro conazionale può iscriversi nei più svariati partiti politici, e può richiedere, in base a questo, diciamo, questo modo superandi, di fare i comizi elettorali nelle comunità. Questo è un caso fresco nuovo. Depolitizzare le comunità significa anche che per certi partiti, per certi schieramenti politici, le nostre comunità diventano dei bacini sicuri per l'elettorato. E ciò significa anche che le persone che frequentano, diciamo, che sono più presenti nelle comunità sono anche schierati politicamente. Gli altri, gli altri, purtroppo, sì, hanno un'entrata, però, diciamo, non dico che sono mal visti, però non hanno, diciamo, non c'è quella libertà di coinvolgere un po' tutti i nostri membri del nostro gruppo etnico, a prescindere delle appartenenze politiche. Il fatto che, non so, certi presidenti delle comunità degli italiani ricoprono anche grandi, grossi incarichi all'interno dei vari partiti politici, secondo me, non è una cosa giusta. Le comunità, si sa che ruolo devono avere all'interno per la nostra etnia e cerchiamo, ecco, appunto, di depoliticizzarle appunto per questi fatti che ho detto prima. Qual è la sua posizione alla sua replica? Allora, non si può parlare di depoliticizzazione delle comunità. Perché? Perché non dipende da noi. Dipende solamente dal fatto se un gruppo umano si sente minacciato in qualche suo valore, in qualche ambito della propria esistenza e del proprio comportamento o no. Qualsiasi persona che ha una richiesta, diciamo così, di cambiamento deve essere politicizzata. Cioè, dovrei eventualmente, dovrei essere, io forse quello che dice i gruppi all'interno delle comunità non dovrebbero essere politicizzati, ma uno che vuole il cambiamento deve parlare di politicizzazione dei gruppi delle comunità degli italiani, dei gruppi umani in genere. Perché? Perché il cambiamento è modestamente vorrei dire che io e da tanto tempo che porto avanti tanti tipi di cambiamento e lo porterò ancora avanti. Perché il cambiamento non dipende dalla volontà che uno ha o non ha di fare il cambiamento ma dipende da tantissimi fattori. Uno è quello di essere nei posti giusti per fare i cambiamenti. Dunque, il cambiamento esige che ci sia anche la politica. Poi, che non ci sia la politica partitica. In questo sono assolutamente d'accordo con Zennaro. Ma la politica è un agire umano che deve essere presente. Cioè, mandare via i partiti politici dalle comunità, sì, depoliticizzare non dipende da noi. Se si sentono discriminate in questo, poco fa abbiamo avuto delle polemiche sul fatto se esista o non esiste il nazionalismo nei confronti delle nostre comunità, io dicevo di sì, Zennaro diceva di no, forse nei confronti di altre comunità. Io dico che c'è il nazionalismo e se c'è, per esempio, solo una delle cose, il nazionalismo, fin quando esisterà il nazionalismo, le comunità dovranno essere politicizzate. mi viene una domanda, ma cosa significa secondo voi essere italiani in Croazia? Essere italiani in Croazia significa essere il custode della tradizione, della lingua, della cultura che ci è stata tramandata dai nostri avi. Essere italiano in Croazia significa far parte di un retaggio storico ben presente nei nostri luoghi. Essere italiano è una testimonianza della nostra permanenza plurisecolare, naturalmente, dell'italianità nell'Iste, nel Quarnerino, nella Normazia, in tutti i luoghi dove si trova i nostri conazionali. Essere italiano significa essere orgogliosa anche, della propria appartenenza nazionale e fiero della propria appartenenza nazionale. Ecco, questa è la mia risposta, Barbara, non so che ti attendevi. Furio. Io darò una risposta più politica, naturalmente. Essere italiano in Istria, fiume, Guarnero, significa essere portatore della specificità di questi territori. Perché? Perché senza gli italiani, senza anche la cultura italiana che è molto più grande del nostro numero, senza la cultura italiana questi territori non avrebbero la propria specificità multiculturale, sarebbero delle regioni come tutte le altre regioni in Croazia e non ci sarebbe nessuna richiesta di approccio specifico nei confronti, politicamente parlando, nei confronti di questi territori. Dunque, essere italiano è importantissimo, non è importante solo per noi, è importante per la maggioranza. Qui ci porta a parlare di un tema, negli ultimi incontri una delle cose che ha sottolineato coloro che saranno chiamati a votare per il seggio specifico domenica prossima Maurizio Zennaro è il fatto che la sua non è una posizione antidiettina. Da sempre si sa che la dieta ha un approccio molto regionalista e lei ha voluto sottolineare il fatto che quella che è la sua attività come consigliere per Enzo e quella che è anche la sua esperienza non va contro quelle che sono delle richieste che comunque sta portando avanti la dieta da parecchi decenni. Sì Barbara, innanzitutto io sono consigliere cittadino indipendente, ho la legittimità di 1600 elettori, pertanto ho anche la responsabilità dei 1600 elettori di rispondere verso questi elettori. Io sono critico per quanto riguarda il modo di governare di amministrare la città di Parenzo che è una città molto impegnativa, molto delicata, molto anche complessa e ogni qualvolta ho da ridire qualcosa per quanto riguarda l'amministrazione cittadina lo dico per il bene dei cittadini e della città di Parenzo. Per quanto riguarda l'appartenenza, diciamo, l'istrianità, io mi sento più istriano e più dietino di tanti dietini che sono tesserati, che lo sono magari soltanto per interessi. pertanto i programmi anche per quanto riguarda il programma politico mio e quello della dieta sono praticamente identici dal punto di vista del voto doppio, cioè della discriminazione positiva. Il regionalismo ci garantisce praticamente la nostra autonomia culturale che è stata già presente da tantissimi anni. Pertanto la decentralizzazione che è il perno e anche i punti centrali della politica della dieta sono politiche che io le condivido. Io non sono un anti-dietino, io sono un anti-modo di governare la città di Parenzo e sono critico in confronti verso quelli che in questo momento lo fanno e in questo momento è la dieta di Parenzo. Furio Radin ieri sera a Fiume ha parlato dell'appoggio che c'è da parte sua a quelle che sono richieste da parte della politica anche locale dall'Iste che sono nate di esaltare quello che è l'identità italiana della città. Quindi da sempre comunque lei è vicino si sa alla dieta e anche a quelli che sono delle richieste particolari del territorio qual è la sua posizione? Prima di tutto bisogna dire che noi in questo momento siamo una cosa un po' in rivalità con i partiti e con tutti i partiti perché o si vota per i partiti o si vota per i candidati etnici e dunque è chiaro che siamo rivali in questo momento perché ognuno corre dietro ai propri voti voglio dire chiaro questo detto questo però io sono stato anche nell'ultimo mandato e anche nel penultimo sono stato membro del gruppo parlamentare della dieta questo si sa e dunque condivido una certa politica regionale autonomista usiamo questa parola perché è la parola giusta della dieta democratica della dieta democratica estriana non non sono membro della dieta democratica estriana ho detto ho detto una volta in un'intervista io non sono nella dieta democratica estriana la dieta è in me è un'altra cosa non ho bisogno di iscrivermi a nessun partito io sono indipendente e sono indipendente anche perché sì io sono regionalmente estriano però sono italiano maurizio zennaro cambiamo argomento lei in queste settimane tra le varie accuse che ha mosso quello che secondo me lei considera il sistema ha denunciato anche un ostracismo da parte di alcune comunità e da parte di alcune media in Croazia nei suoi confronti vuole chiarire quella che è la sua posizione sì allora l'ostruzionismo iniziò praticamente col tentativo di fare un comizio elettorale nella comunità degli italiani di Verteneglio questo posso dire mio diritto mi è stato bruscamente rispinto da parte del presidente della comunità degli italiani di Verteneglio con la motivazione che ho parlato male del protocandidato ho parlato male e l'ho denunciato dice il presidente io ripeto non si tratta di nessuna denuncia perché se tu esplori denuncia la devi fare tramite avvocato io ho soltanto mandato delle lettere con la richiesta di delucidazione successivamente diciamo la saga con Verteneglio continua perché oggi ai cittadini di Verteneglio a tutti i nostri connazionali aventi diritto il voto hanno ricevuto una lettera nella quale si chiede praticamente di non votare Maurizio Zenaro ma di dare il sostegno a Furio Radin con delle spiegazioni che sono allucinanti dove mi si praticamente dice anche che sono stato respinto da parte della comunità degli italiani di Rovigno anche se a me io non li ho affatto contattati sapendo che a Rovigno c'è una situazione un po' particolare in corso pertanto sì c'è stato dell'ostruzionismo per quanto riguarda i mass-made che dire certi hanno riportato delle informazioni erate soprattutto il HRT poi devo anche dire che la voce del popolo sì ha cercato di essere imparziale in tutto ciò però io ho fatto una conferenza stampa a Pola il tutto è stato messo inglobato conferenza stampa e comizio elettorale mentre nel caso del candidato tutto ciò non è successo la conferenza stampa è riportata soltanto come articolo di conferenza stampa beh ma Barbara che vuoi succede un po' di tutto siamo in campagna elettorale a me dispiace soprattutto per i cittadini di Verteneglio che non hanno avuto la possibilità di ascoltarmi non hanno avuto la possibilità purtroppo di essere informati e in questo modo sono stati danneggiati ma non soltanto loro è stata danneggiata praticamente il senso di democrazia dove si si cerca di dare una formazione all'elettore e poi l'elettore sta a decidere a chi darà il proprio voto politico come replica allora io sono stato a Verteneglio e bisogna anche dire una cosa che sono stato anche a Villanova perché Verteneglio ha due comunità Verteneglio e Villanova che sono entrambi molto attive molto importanti però ho avuto anch'io degli ostacoli con alcune comunità ad esempio io ho chiesto alla comunità di Rovigno di darmi la propria sede però la comunità di Rovigno mi ha risposto freddamente di fare domanda scritta cosa che io non ho potuto naturalmente da presidente dell'Unione Italiana non ho potuto fare però terrò la mia conferenza pre-elettorale a Rovigno indipendentemente dalle difficoltà in cui non vedo quali difficoltà potrebbero esserci per non farmi parlare a Rovigno e vado a parlare al centro di ricerche storiche dunque mi dispiace per quanto riguarda Verteneglio io l'ho saputo per sentito dire da delle persone non ho contattato la comunità perché Verteneglio e Villanova sono le prime comunità nelle quali sono stato a tenere il ma volevo risponderti Barbara di Fiume che mi hai fatto una domanda su Fiume prima concluderei solo questo chiedendo una cosa a Furio Radin presidente dell'Unione Italiana ecco non crede che siano preoccupanti comunque questi due episodi quello che ha toccato lei a Rovigno e quello che ha toccato Zennaro guardi allora io non ne ho fatto un dramma a Rovigno perché come ha detto prima Zennaro ci sono delle problematiche a Rovigno in questo momento che impediscono una comunicazione lineare ma per questo non è che sono andato in giro a dire che sono danneggiato ma ho cambiato sede sono andato al centro di ricerche storiche c'è il centro di ricerche storiche no anche però io fondamentalmente sono non fondamentalmente assolutamente sono perché le comunità siano aperte nei confronti di tutti per quanto riguarda Fiume cosa voleva dire ma lei mi ha chiesto prima per quanto riguarda il bilinguismo Fiume perché Fiume ha una grande cultura italiana anche Fiume è definito dalla cultura italiana e dalla cultura croata nella storia non si può parlare di Fiume senza parlare anche della cultura italiana ci sono tante istituzioni italiane ma non c'è il bilinguismo visivo il bilinguismo visivo è la mia proposta è di fare qualcosa di simile a quanto è stato fatto ad Albona fa una proposta al sindaco perché il sindaco decide di questo fare un atto culturale non un atto politico e mettere il bilinguismo nel centro storico ad Albona l'ha messo così e paradossalmente c'è anche a Zagabria attorno al Parlamento nelle vie attorno al Parlamento le vie sono in croato in tedesco perché storicamente è un retaggio dell'Austria dunque ci sono le vecchie scritte in tedesco e sopra sotto quella in croato Zennaro per quanto riguarda il bilinguismo lei ha qualcosa da aggiungere sì ma soltanto per quanto riguarda le due comunità Rovigno e Verteneglio se mi permettono sì certo allora sono due casi ben diversi perché Rovigno ha una direttiva così una posizione e dice noi non vogliamo i candidati nella sede della comunità cerchiamo di accantonare l'uno l'altro invece a Verteneglio è successo che soltanto a me è stata chiusa la porta mentre l'altro candidato ha avuto la possibilità di presentarsi perciò sono due casi ben diversi no non ho chiesto niente a Rovigno come sa perché durante la scorsa campagna elettorale Rovigno ha preso una posizione di non consentire ma era chiusa la comunità quella volta no no avevo contattato la comunità no no era chiusa la comunità la sede della comunità era chiusa per quello l'ho fatto in centro di cerche storiche l'altra volta non ho neanche chiesto a loro ma mi pare che una presa di posizione di Rovigno dovrebbero essere aperte tutte le comunità sia Rovigno che sia Rovigno perché dovrebbero essere chiusa ma il fatto sta che sono stato più danneggiato io dal fatto che non ho ma perché dovrebbero essere perché da ragione sono d'accordo con lei che è un fatto grave ti sono anche concordata sulla cosa ma soprattutto è grave quello che è successo a Verteneglio no perché ripeto Rovigno se prende una posizione così va bene l'accetto però non puoi come presidente di una comunità in questo caso di Verteneglio dire sì tu puoi mentre tu sei una persona non grata e non hai praticamente l'opportunità di presentarsi per quanto riguarda il bilinguismo mi dicevi Barbara ma guardi il bilinguismo ho parlato ieri con una persona un ispettore di polizia che mi diceva siccome ho proposto una delle iniziative perché il bilinguismo si va bene scritto visivo ma il bilinguismo si diffonde anche in un'altra maniera ecco questa persona mi diceva che 40 anni fa i poliziotti i frontalieri avevano dei corsi di corsi di lingua italiana e dei corsi di lingua tedesca per cercarli di preparare in vista del turismo insomma quella massa di turisti che arrivavano arrivavano nei anni 80 io ho parlato un po' ho visto anzi un caso personale dove un poliziotto nostro a Parenzo vicino al porto un ostoconazionale un turista ha chiesto delle informazioni questo ha risposto in un modo molto brusco io non parlo l'italiano rispondendo in inglese e si è rivoltato mostrando le spalle ma io penso che anche non soltanto il bilinguismo visivo qui si può fare tanto ecco perché non organizzare dei corsi per dipendenti la polizia i dipendenti statali e così via anche perché l'ambiente sociale dove questi lavoreranno e lavorano è un ambiente bilingue pertanto si creano i presupposti per una un'armonia di convivenza tra la maggioranza e quelli che sono praticamente rappresentanti del nostro gruppo etnico bilinguismo si si è fatto tanto ma si deve anche dire che il bilinguismo non è una creazione del 91 il bilinguismo è presente nella zona B da sempre l'accordo italo-croato prevede che ci sarà una graduale estensione dei diritti che sono stati acquisiti nella zona B verso le zone dall'altra parte del quieto mi pare che in questa direzione non siamo stati bravi e si è fatto ben poco naturalmente il bilinguismo poi l'applicazione del bilinguismo dipende anche dalla municipalità e dipende anche dall'amministrazione regionale si è fatto tanto si può fare ancora tanto Furio Radin lei ha 25 anni di esperienza al Sabor quanto può fare il deputato per il bilinguismo realmente ad esempio i corsi potrebbero servire ma i corsi ci sono i corsi ci sono sono troppo pochi ma ci sono hanno incominciato a farli i corsi dei quali parlava Zennaro sono continuati ma in Slovenia in Slovenia ci sono i corsi quella volta il confine stava tra l'Italia e la Jugoslavia e stava in Slovenia in Slovenia questi corsi ci sono ancora e ci sono anche in Croazia dei corsi di lingue straniere però sono trattate come lingue straniere l'italiano è una delle lingue noi vorremmo e credo che in questo siamo uniti vorremmo che l'italiano fosse lingua dell'ambiente sociale dunque tutta una cosa molto diversa dalla lingua straniere ma poi perché non ci sono questi approcci da parte delle istituzioni forti dello Stato la polizia e altre istituzioni non c'è questa tolleranza e io ritorno sempre al senso perché c'è il nazionalismo perché è questo che ti impedisce la mentalità etnocentrica ti fa dire noi siamo in Croazia e in Croazia si parla croato è la stessa cosa che hanno detto a me adesso un famoso giornalista Svonimir Despot molto famoso che ha pubblicato un articolo un piccolo articolo contro di me però ha avuto un grandissimo una grandissima diffusione con 700 e tanti like persone che gli davano d'accordo e moltissimi commenti e moltissime condivisioni cosa diceva? diceva i manifesti di Fulio Radin sono scritti in italiano dovrebbero essere scritti in croato perché noi siamo in Croazia vada a fare il deputato in Italia una cosa voglio dire è un nazionalista è un nazionalista io dovrei rivolgermi in italiano in croato agli italiani voglio dire no è pazzesco e pochi giorni dopo il vandalo lo trovi sempre e mi hanno strappato i manifesti ecco questo ma non sono collegate le cose questo era un vandalo ma quando ci sono delle persone istruite intelligenti anche se nazionaliste che scrivono in certo modo poi lo stupido lo trovi continuiamo il nostro dialogo con il discorso del nazionalismo che comunque mi sembra un tema importante ma c'è il nazionalismo in Croazia Zennaro? ma allora il nazionalismo è sempre presente non soltanto in Croazia penso un po' dappertutto soltanto che mi pare che ogni qualvolta si fa campagna diciamo che ha certe caratteristiche il nazionalismo croato nei Balcani in generale beh ma sì ce le ha ma però io penso che fa parte tutto quanto di una strategia pre-elettorale perché è importante diffondere un clima di inquietudine e un clima di incertezza allora si tira praticamente in ballo il nazionalismo naturalmente che c'è il nazionalismo in Croazia il fatto dell'onorevole Ladin che dice che è stato accusato di non avere i manifesti bilingui quello che si dice è la madre del vecino è sempre incinta è sicuramente uno che è un nazionalista però ripeto il nazionalismo più estremista è rivolto verso un'altra etnia noi italiani nella zona io non mi sento assolutamente sinora non mi sono mai sentito minacciato da parte del gruppo della maggioranza per quanto riguarda non so l'estrema destra cioè il nazionalismo di destra e così via c'è sicuramente c'è va tenuto a bada dobbiamo essere consapevoli che esiste però ripeto non è un caso d'emergenza non è un caso d'emergenza e mi pare che è un po' eccessivo tirarlo in ballo durante le elezioni parlamentari Furio Radin so che la sua posizione è di metralmente opposta allora due anni fa abbiamo votato tutti i deputati delle comunità nazionali minoritarie e il presidente del consiglio per le minoranze abbiamo votato a Pola una dichiarazione contro l'etnocentrismo e l'intolleranza l'etnocentrismo e il nazionalismo e l'intolleranza in Croazia e abbiamo elencato un numero elevato di manifestazioni che erano nazionaliste che sono nazionaliste sono rimaste ce ne sono anche in Istria se adesso mi dici se adesso mi si dice che non è nazionalista l'istriano autoctono sono d'accordo e anche il fiumano autoctono anche il lussignano autoctono il chersino autoctono ma se mi si dice che in Istria non esiste il nazionalismo io alzo le mani e dico vado e retro voglio dire perché in Istria la popolazione è cambiata e il nazionalismo esiste come e se lo sente basta aprire i giornali e vedere i commenti sotto gli articoli basta aprire certi siti basta andare a certe riunioni che vengono fatte in certi ambienti il nazionalismo esiste è una malattia endemica balcanica spero che io spero di riuscire ad attenuarne alcune manifestazioni e spero che mio nipote che adesso ha sette anni e mezzo non possa sperimentare quello che abbiamo sperimentato noi in Istria soprattutto negli anni 50 ma io vado per le comunità e faccio queste domande anche adesso esiste l'idiot con il sede orso vai da dove sei venuto in Croazia si parla croato e non italiani in Istria dappertutto so che lei Furia Radin unisce anche molto il discorso dei diritti della minoranza etica autoctone comunque un discorso di diritti delle minoranze in generale lei se sarà rieletto il sabore poi vale la stessa domanda anche a Zennaro combatterà per quelli che sono i diritti non solo delle minoranze etniche autoctone ma anche i diritti di quelle di altre minoranze che esistono in Croazia come ad esempio la minoranza LGBT e altri tipi di minoranze da presidente della commissione per i diritti umani e minoranze nazionali dunque per i diritti umani in questo caso lo abbiamo fatto tutti questi anni mi sono occupato di tutti questi gruppi sono stato amico di gruppi di persone diverse perché anche noi siamo diversi noi siamo diversi nazionalmente sono diversi per altre proprie caratteristiche umane ma questo diventerà fra poco il lavoro più facile sono gli immigrati e il lavoro con gli immigrati sarà e nei confronti degli immigrati rimanere su posizioni umane e umanistiche con gli immigrati sarà uno dei problemi per quanto riguarda gli immigrati l'Istria mi sembra Zennaro che non abbia risposto in modo molto accogliente una delle cose di cui si freggiano gli istriani è la grande apertura ma quando sono arrivati i primi profughi in Croazia una delle prime regioni a dire noi non li vogliamo è stata l'Istria lei da comunque se verrà eletto sarà rappresentante di una minoranza nel caso si riproponesse il passaggio dei profughi dalla Croazia quale sarà la sua posizione? ma innanzitutto voglio rispondere alla prima domanda cioè le minoranze se verrà eletto quale sarà il mio rapporto con le minoranze ma io penso che le minoranze sono un valore un valore per tutte le società e le società che non rispettano e che non aiutano che non appoggiano perché le minoranze negli stati come il nostro le nostre minoranze ma anche le altre minoranze hanno il bisogno di essere aiutate anche nel senso finanziario dal governo pertanto le minoranze sì la collaborazione con tutte e il rispetto di tutte le minoranze al prescindere dell'appartenenza etnica anche diciamo culturale religiosa anche ecco di schialamento sessuale sì pertanto lotterò naturalmente per il rispetto di tutti i valori di tutte le minoranze per quanto riguarda il problema dell'immigrazione Barbara io sono un professore di storia perciò i valori umani umanistici li ho e come naturalmente queste persone vanno aiutate quanto si può aiutarle cercando anche di offrire un'accoglienza dignitosa e un aiuto dignitoso e umano passiamo a temi che sono propri della minoranza italiana come il doppio voto uno dei temi con cui lei apre la sua campagna è proprio la battaglia che se verrà eletta verrà fatta per il doppio voto ecco perché secondo lei lei dovrebbe riuscire ottenere quello che in 25 anni si è ottenuto e poi si è perso in 4 anni si è ottenuto con la corte poi che è stato abolito e che è stato poi abolito però bene o male per un breve momento 3 mesi comunque si era ottenuto però non siamo riusciti ad applicarlo come pensa di riuscire lei a ma questo è il punto centrale praticamente concentrato non soltanto sul doppio voto ma soprattutto sul doppio voto ma perché perché si è dimostrato che nell'arco di 20 anni sempre ripeto i 10.595 che uscivano al seggio elettorale specifico nostro mentre nel 2015 siamo arrivati al minimo storico di 2447 pertanto io penso che qui perdiamo anche una legittimità politica siamo pochi pochi che hanno scelto di votare il voto etnico avendo la possibilità del doppio voto si riapre praticamente l'affluenza alle urne per quanto riguarda i nostri italiani sicuramente sarebbe molto maggiore ciò significherebbe anche che la partecipazione dei nostri connazionali sarebbe anche non so dei 10.000 e avrebbe una forza politica e anche una legittimità politica naturalmente si deve continuare in questa in questa battaglia con questa battaglia la guerra non è persa e pertanto sono sono convinto che nell'arco di 4 anni posso ottenere questo risultato se non lo faccio non mi ricandido è semplicissimo perché questa è una questione anche di responsabilità verso i ritori io non posso promettere qualcosa e poi ripropormi nel caso che tutto ciò non ottengo fuori ora di allora nel 2001 la mia commissione è riuscita a far cambiare la costituzione e mettere il doppio voto nella costituzione come possibilità purtroppo non come nel 2010 abbiamo cambiato la la legge costituzionale sulle minoranze mettendo il doppio voto in un momento nel quale la politica era debole perché bisognava la politica è contraria al doppio voto i grandi partiti bisogna trovare i momenti in cui hanno bisogno di tempo era quel momento siamo riusciti a cambiare la legge costituzionale abbiamo cambiato anche la legge elettorale poi la corte costituzionale ha cancellato tutto questo con un atto politico secondo me diretta dai partiti con un atto politico e a tre mesi dalle elezioni che è assolutamente inusuale perché ha cambiato le regole del gioco nessuno ha protestato al di fuori delle minoranze della dieta democratica estriana nessuno ha protestato il che vuol dire che c'è una politica ben dentro ben dietro io ho fatto quando sono tanti temi con i quali posso parlare con Zennaro ma quando lui affronta in modo talmente semplicistico questo problema e parla sì no io farò se non faccio non ci sarà la battaglia per il doppio voto è una battaglia contro tutta la società croata tutti sono sfavorevoli al doppio voto è come una battaglia contro il nazionalismo che cosa è successo in passato e dunque è una battaglia che continuerà e ci saranno ancora degli alti e dei bassi e questo modo semplicistico di Zennaro glielo ho detto oggi in televisione mi fa rabbiare perché non puoi dire a una a una persona che si è occupata per esempio da 25 anni faccio un esempio esagerato da 25 anni si è occupata della fame nel mondo e gli dici dirgli tu non sei riuscito a sconfiggere la fame nel mondo è un po' così qui sono tutti contro sono tutti contro ma una cosa poi Zennaro vuole replicare ne ha la facoltà assolutamente perché in passato ci sono stati più voti sì perché non c'era perché perché c'era più affezione nei confronti dell'etnico ma ci sono anche dei risultati anche dei e questo vuoi sottolinearlo ci sono anche dei delle ragioni molto più pratiche era diversa la legge elettorale in Croazia per due mandati fino al 2005 la legge elettorale prevedeva il voto proporzionale per i partiti e il voto maggioritario tutti votavano per il proporzionale e sul maggioritario dovevi scegliere il deputato etnico il deputato politico istriano per esempio e dunque c'era la parvenza del doppio voto anche se non c'era poi in quegli anni lì si andava a votare in comunità quando vai a votare in comunità sei portato a votare per il candidato etnico comunità degli italiani si votava gli italiani votavano in comunità degli italiani adesso votano nei seggi noi non abbiamo gli osservatori nei seggi e io non so come si comportano nei confronti degli elettori se gli fanno capire bene che deve avere che ha questa facoltà quanto insistono su questo oppure hanno un atteggiamento che è molto più conforme ai partiti perché i membri delle commissioni elettorali sono tutti dei partiti Zernaro ma sì per quanto riguarda l'affezione dei nostri connazionali verso il voto etnico è ovvio dopo 25 anni va a mancare l'affezione perché per 25 anni siamo stati rappresentati sempre da una persona pare che come che al nostro interno non ci sono delle persone che si assumono la responsabilità di fare appunto questo salto in avanti cioè di prendere anche avere il coraggio di proporsi come un'alternativa ai 25 anni che sono stati finora ricoperti dall'onorevole Radim per quanto riguarda sì il doppio voto ma qui le cose sono per quanto mi riguarda chiarissime io non ho la forza di ripropormi metti caso che dopo 4 anni non succederà tutto ciò è semplice è una questione di responsabilità verso l'elettorato nient'altro naturalmente qui ci sono altre lotte da impugnare nell'arco dei 4 anni di mandato ma ripeto il dato sconcertante e qui dobbiamo preoccuparsi un po' del nostro gruppo etnico è questa bassissima affluenza e bassissima scelta di scegliere il doppio voto ma responsabile chi è come mai è successo tutto ciò questa è la domanda diciamo di base chi è secondo lei io penso che colui che ci ha rappresentato colui che ci ha rappresentato nel Parlamento Croato per 25 anni ecco furio radim penso vorrei allora ho detto prima che che Zennaro adesso dico che Zennaro insomma parla bagianato voglio dire perché quando quando tu riesci ad ottenere qualcosa ed è un tribunale la corte la corte costituzionale no che la consulta come si dice in Italia che poi te lo cancella con un atto politico fare un ragionamento così semplicissimo così semplicisto semplicista vede che mi arrabbio per queste cose così semplicistico appartiene al mondo dei cervelli di bambini non degli adulti giovani non dei bambini allora lei si ritiene giovane a 50 io quando la vedo così la vedo un po' svampina nei suoi confronti mi ritengo molto giovane molto giovane ma molto giudicottura allora adesso non trascendiamo ecco allora è calvo è a 51 anni e si ritiene giovane allora adesso non trascendiamo ecco diciamo che i due candidati sono due young adults young adults come dicono in inglese mi ritengo molto il giovane di lei è lui il giovane al di là dell'età molto molto giudicottura Furio Radim per favore al di là dell'età lei comunque è una cosa che ha detto l'ho sentito dire in più comizi che in ogni caso comunque vada lei se viene eletto dopo due candidature se ne va assolutamente perché mantenere il dominio del seggio specifico per 25 anni è una questione anche di messaggio che si dà verso il nostro elettorato esiste Furio e non esiste più nessun altro mi pare che è un po' sconcertante tutto il fatto Furio penso ma io le posso dare una notizia ancora più sconcertante che io farò ancora meglio di Zennaro tra un mandato io ho finito questo mandato e basta perché? perché voglio dire ognuno deve finire il proprio ciclo e poi voglio dire io ho una io voglio bene ai miei elettori e loro sentono che io voglio bene a loro questo è il legame che ci tiene insieme quando lo capirà vedrà che vincere anche le elezioni grazie ma io l'ho già capito questo e questo si è dimostrato nei conti dieci mesi fa uno dei motivi è appunto per questo che mi sono ricandidato perché voglio anche io bene ai miei elettori sono convinto che l'11 di settembre ne avrò molti di più e sono convinto che ne avrò ancora di più bene allora concludiamo con questo dichiarazione di amore da parte dei due candidati nei confronti degli elettori io ringrazio tutti gli ascoltatori ringrazio Furio Radina Maurizio Zennaro io posso ringraziare Radio e TV Capodistria perché sono gli unici che fanno questi confronti e non si trovano neanche in Croazia e dunque un doppio ringraziamento naturalmente anch'io tanto di lode a Radio e TV Capodistria devo dire che all'inizio della campagna elettorale avevo lanciato un appello al signor Furio per fare quanti più confronti radiofonici televisivi ma anche dei confronti pubblici ma non li fanno ma noi organizzandoci noi nel nostro intero non trovi la radio che li fa ma penso di sì ci sono i TV regionali beh comunque li abbiamo fatti magari per il futuro ecco lancio una proposta per i futuri candidati speriamo che non siamo noi due non si ricadida più allora io sarò sicuramente metti in caso che passo o che non passo visto l'anagrafe e poi no posso soltanto concludere questo giovane qui mi scontro posso soltanto concludere allora con una proposta che giovinastro con un'iniziativa per il futuro ma perché fare tanti comizi elettorali singoli un candidato l'altro il terzo il quarto il quinto perché non fare un comizio elettorale e un confronto dove tutti i candidati possono presentare il programma discutere con gli elettori penso che sarebbe una cosa molto più democratica e molto meno dispersiva anche meno faticosa per tutti quanti si è già stancato si immagini dopo tante campagne elettorali si è già stancato per rispetto si va nelle io mi faccio 3 chilometri in nuoto 10 chilometri di corsa e 50 di bicicletta alla faccia vi invito adesso a calmarvi un attimo sentite che il clima continuerete a discutere dopo la conclusione della trasmissione vi ringrazio grazie a voi grazie a voi mi ringrazio per i complimenti e invito tutti gli ascoltatori potrò andare a saccarlo in bicicletta ma facile perché no signor Radin per favore un attimo mi ringrazio per l'ascolto invito comunque una cosa che vi trova d'accordo è il fatto che domenica più persone andranno a votare per il seggio specifico meglio sarà comunque vada quindi vi invitiamo anche noi andare a votare l'11 settembre votate italiano votate italiano e ci risentiamo la prossima settimana quando saremo a conoscenza di quello che è il risultato delle urne grazie l'argomento appuntamento estivo con l'informazione di Radio Capodistria di Radio Capodistria di Radio Capodistria